Benvenuti a tutti qui questa sera per questo incontro con Paolo Azzori. Per me è un enorme piacere ospitare qui all'Accademia di Bari dove mantengo in un equilibrio instabile un corso di computer art. Siamo i nuovi funamboli di un'epoca in velocissime trasformazioni ed ormai 11 anni incontro una serie di studenti che si stanno ponendo domande sul rapporto tra il presente qui da Bari e il futuro in uno spazio che ancora non è ben compreso come quello della rete e su questo quotidianamente proviamo a gettare ponti tra la frontiera della creatività, della fantasia, dell'espressione. e quello che è il rapporto con i media che attraversano il nostro corpo costantemente. Oggi abbiamo in tasca un computer e non più un telefono, un telefono è un'applicazione di una virtualizzazione, una delega verso la computazione, verso l'algoritmo e proviamo anche a fare piccoli salti, saltelli in quel che consiste pensare un codice, impartire delle istruzioni al computer. Il viaggio che presento e che sarò velocissimo e giusto per entrare dentro il problema del tempo che stiamo vivendo, è un viaggio che prende spunto da una serie di riflessioni, la prima sulle frontiere e prendo come riferimento Artur Danto in un testo in cui mette proprio in relazione la frontiera con la creatività e propone tre passaggi, prima della rivoluzione industriale la frontiera della natura, la mimesi della natura. Poi tutto il periodo del novecento in cui messa da parte la mimesi della natura, la rappresentazione si entra nell'epoca degli ismi, nell'epoca dei manifesti, nell'epoca delle teorie, per arrivare poi ad un anno importante, ad una generazione importante che coincide con l'ingresso nella società dei primi computer funzionanti. Quindi Andy Warhol e il Brillo Box, che è uno dei riferimenti per un critico d'arte contemporanea come Danto, trova una risonanza nell'ingresso di nuove tecnologie. C'era già stata o stava diventando importante la televisione, il raggio catodico, che diventa l'oggetto che permetterà di vedere simulazioni numeriche espresse dal computer, permetterà di aggiungere un nuovo livello nell'organizzazione delle società, quella che Lyotard chiama la condizione postmoderna. In questa ricerca abbiamo intercettato alcuni elementi che possano poi provare a raccontare un'evoluzione verso il contemporaneo e Peter Lunenfeld parla di unimodernismo, dove quell'uni è legato all'universalità del codice, quello che Paolo definisce isomorfismo digitale, legato all'unitarietà degli effetti possibili attraverso le tecnologie. c'è un cambiamento di interfacce che avviene nell'arco di pochi secondi e che si dipana sulla rete e coinvolge milioni di persone. Quindi l'epoca richiede un pensare, un pensare, il nostro rapporto con le tecnologie, con uno sguardo verso il futuro. Perché da, così come ci definiva Carmelo Bene, il sud del sud dei santi, il passato riverbera ancora con una sua forza, forza anche economica, perché naturalmente sul passato stiamo costruendo economie, stiamo costruendo strategie di attrazione turistica, quindi sicuramente ha un valore la terra che noi abitiamo da qui. Solo che il da qui, dopo internet, inizia ad essere messo in crisi. Perché non è più il da qui, così come l'altro incrocio che propongo con Régis Debré, quindi un approccio mediologico, vedere come le tecnologie risuonano nella costituzione dello sguardo. E visto che siamo in un'accademia di belle arti e siamo in un evento organizzato dalla scuola di pittura che è il responsabile delle immagini, di quelle immagini artistiche, di quelle immagini libere, Régis Debré ci propone la differenza tra arte e comunicazione. L'arte non ha una domanda. La comunicazione inizia dove c'è una domanda di. E la comunicazione è la domanda che ama ad un progetto. L'arte forse chiama più ad un percorso di libertà, rizomatico. Ma qual è la sua forza sociale dell'arte oggi? Queste sono le questioni che noi costantemente mettiamo in campo. Perché l'importanza delle trasformazioni sono in mano all'industria, sono in mano alla scienza. Ma non è, anzi sì, è lontano ormai il tempo della grafosfera dopo la rivoluzione di Gutenberg, ma inizia ad essere lontano anche il tempo dopo la videosfera, dopo il raggio catodico. Perché noi stiamo andando e ci siamo dentro in pieno, nella cybersfera, dove i paradigmi della creatività, i paradigmi della fantasia, i paradigmi della libertà e i paradigmi della verità sono ancora una volta stati smontati, dati in pasto al flusso, dati in pasto a quella che è la parola che oggi è il nostro meme, la complessità. Ed ecco la necessità di un pensare, l'educazione, la formazione, in termini di complessità, di approccio alla complessità. E questo ci sta dando giorno dopo giorno una mappa del presente. Una mappa del presente che da qui è già il futuro che è stato immaginato. Quindi è possibile da qui essere effettivamente inventori di un futuro sociale? Quindi provare ad interferire nella costituzione dello sguardo dello sguardo di una generazione o di più generazioni. E così prendendo in prestito la riflessione di De Breh mi sono rimbalzate parole e quindi concetti che quando ero ragazzino come voi sentivo provavo a conoscere studente di informatica a Torino sento parlare di una call internazionale ma come? Io faccio difficoltà a parlare l'italiano come dire riesco a a tradurre un giornale in dialetto leccese con molta facilità internazionale dalla Germania in quel periodo lavoravo con un collega di un'accademia di belle arti Davide Bramante ed ero tra i pochi studenti italiani che stava mettendo come strumento il computer quale oggetto l'espressione della libertà dell'anima era un'anima che curavo naturalmente durante le lezioni di informatica ma sentivo che qualcosa che qualcosa stava per sconvolgere Paolo Azzori insieme a Carlo Infante organizzano un workshop di un mese in un castello tecnologicamente espanso con le tecnologie che sarebbero arrivate sul mio tavolo fra dieci anni ed ecco che in una condizione ma ci racconterà un po' meglio dopo inattiva in una condizione in cui io posso modificare le macchine almeno tanto quanto le macchine modificano me e allora essere qui dopo vent'anni a ritrovare un modello formativo che dai venti selezionati in quel workshop tutti e venti sono agenti nella società rivedere qui nel pubblico una studentessa di un master che Paolo ha messo in piedi vado per generazioni dieci anni fa forse un po' meno 2007 quindi sì dieci anni fa è corretto il salto di generazioni è corretto quindi dopo dieci anni rimetto in piedi un master con sul tavolo le tecnologie che ci sono adesso ed ecco che tutti quanti erano una ventina 15 sono di nuovo agenti di una nuova generazione nella nostra società stiamo registrando ora ti passo il microfono perché ritorno a quel workshop nel castello chiamato Interscena e lì ma forse ne voglio parlare più dopo perché voglio ascoltarti adesso perché ho bisogno come spero tutti quanti voi di non portare sul tavolo la tecnologia perché ancora non ci stiamo non siamo attrezzati ma i pensieri di come vivremo fra dieci anni e Paolo abita lì Paolo abita il futuro riusciamo ad abitarlo anche noi credo che creando ponti a relazioni con questi agenti diventi una strada che si può percorrere quindi Paolo grazie di essere con noi portaci nel futuro grazie a voi di essere qui ad Antonio di avermi invitato creare un'occasione per riflettere per pensare fermarsi un attimo più che il futuro pensare al presente ecco io mi accontento di concentrarmi sul presente il futuro è troppo distante abbiamo raggiunto oramai delle velocità di comunicazione velocità di accessi alle informazioni che ci consentono effettivamente di andare sull'onda del tempo questo spirito del tempo che diventa sempre più accessibile attraverso la diffusione la condivisione delle conoscenze della diffusione delle tecnologie l'accessibilità di queste tecnologie ora quello che è importante è riflettere prima di tutto su quello che è il nostro tempo su quella che è la nostra realtà in che tipo di realtà stiamo vivendo perché sono importanti le tecnologie da dove viene questa spinta fortissima di cambiamento che stiamo vivendo quasi senza accorgerci perché oramai per tutti è normale avere un telefono in tasca avere un bancomat avere scavalcato diciamo tutti quelli che potevano essere dei rapporti molto più lenti più interpersonali che caratterizzavano la società di 30 40 50 anni fa il nostro è un tempo complesso come giustamente diceva Antonio la complessità è data dal fatto che viviamo in più dimensioni e in più tempi con più velocità non ci siamo solo noi umani ma ci sono anche le macchine e questo ce l'ha insegnato proprio la cibernetica che è la matrice concettuale penso fondamentale per qualsiasi discorso si voglia fare su arte e tecnologie il problema che ci riguarda più direttamente è quello dell'insegnamento e dell'apprendimento queste tecnologie devono essere sempre più accessibili sempre più condivisibili ma fruite anche criticamente io penso che un artista rappresenti una delle figure che idealmente gode della maggior libertà di pensiero possibile l'artista ha la libertà di criticare tutto e chiunque di rifiutare e di cambiare eventualmente qualsiasi cosa ritenga debba essere cambiata ora io vedo che c'è una fortissima passività nell'uso delle tecnologie siamo trascinati da un sistema che ha deciso di spostare l'economia verso una nuova rivoluzione che si chiama Industria 4.0 ormai ne parla anche Renzi di Industria 4.0 lo scorso settembre che va notato si tratta di una fotocopia del programma tedesco che è stato elaborato Industria 4.0 nel 2013 e poi è arrivato anche da noi e anche il nostro governo ha elaborato un minimo di strategie per proiettarci verso questa che è la nuova rivoluzione industriale che stiamo vivendo una rivoluzione in cui il petrolio verrà sostituito dei dati sembra una cosa assurda però è così big data internet of things robotica intelligenza artificiale cioè una convergenza totale di quelle che erano appunto le componenti cibernetiche dentro un nuovo potentissimo modello economico di cui poi con qualche slide penso di chiarirvi meglio quindi torniamo all'inizio di questa riflessione che sta cambiando il mondo e probabilmente dovranno cambiare anche le tecniche di rappresentazione di questa realtà così complessa una realtà molto dinamica che quindi forse difficilmente riesce ad essere rappresentata con quelli che sono i mezzi tradizionalmente accademici che ancora vengono insegnati in questi luoghi probabilmente è necessario apprendere anche delle nuove tecniche apprendere dei nuovi linguaggi e sperimentare nuove forme di rappresentazione per fare questo da circa 25 anni ho avuto occasione di creare aprire degli spazi degli spazi liberi di riflessione di creazione non soltanto parlare ma anche stare in silenzio a lavorare a confrontarsi con le macchine ma a confrontarsi anche con gli altri perché qualsiasi workshop qualsiasi master qualsiasi corso io abbia progettato sviluppato è sempre stato incentrato su uno dei caratteri anche questi ereditati dalla cibernetica un carattere fondamentale che è quello dell'interdisciplinarietà interdisciplinarietà quindi non ci sono le figure romantiche del grande artista ma ci sono dei gruppi di ragazzi di studiosi di ricercatori di artisti che si trovano discutono condividono le idee per arrivare all'elaborazione di un progetto di una visione olistica che rappresenti appunto tutte le diverse specificità l'essere donna l'essere uomo l'essere tecnologico l'essere riflessivo l'essere razionale tutte queste componenti sono fondamentali e spero di riuscire appunto attraverso queste memorie che ho raccolto a comunicarvele quindi passiamo a raccontare un'altra storia che è quella del master Digital Environment Design quindi un master dedicato alla progettazione di ambienti digitali che è iniziato a Milano alla nuova Accademia di Belleati la Naba nel 2007 ha proseguito fino alla fine del 2010 anno in cui poi la Naba è stata venduta a una grande multinazionale americana che ha deciso di cambiare radicalmente i programmi e trasformare la Naba in una sorta di che ha education ha rivolto soprattutto al fashion e al design tradizionale per cui questo tipo di design scusate se vi parlo in una scuola d'arte di design ma per me design ha un'accezione molto più ampia e può raggruppare l'idea di il concetto di artista di alchimista di sperimentatore e penso che con con le tecnologie sia fondamentale avere le capacità di sperimentare qua siamo ancora nella dimensione di Antonio quindi dicevamo che le informazioni sono la materia principale di una nuova struttura economica di una nuova morfologia sociale a cui corrisponde un nuovo paradigma di radicale modifica dei processi di produzione esperienza potere e cultura se pensiamo all'aumentare esponenziale delle possibilità di connessione di condivisione dei contenuti e informazioni all'uso di massa di piattaforme di social networking all'enorme quantità di informazioni che caratterizza lo sviluppo della società contemporanea ci confrontiamo con un problema della comunicazione e della rappresentazione che riguarda quasi ogni campo della nostra realtà un artista designer deve acquisire nuove tecniche per progettare ambienti interfacce con cui rappresentare visualizzare dinamicamente flussi di dati contenuti digitali che attraverso processi di interazione forniscono agli utenti e al pubblico non solo adeguate modalità di comunicazione ma la possibilità di personalizzare la propria esperienza il master Digital Environment Design è stato attivato alla Naba di Milano nel gennaio del 2007 con l'intento principale di sviluppare competenze sia tecniche che critiche per definire nuove figure professionali capaci di realizzare gli scenari digitali della società dell'informazione con adeguate rappresentazioni dello spazio caratterizzate da dinamiche di pervasività e interazione il processo creativo si incentra sull'utilizzo di tecniche digitali come modellazione animazione 3D interface design database management per la progettazione di ambienti digitali complessi dall'esposizione tecnologica al teatro contemporaneo dall'urban design ai musei virtuali in un'ottica di ecologia della comunicazione vale a dire utilizzare le tecnologie digitali con coscienza critica e consapevolezza etica verso appunto un uso sostenibile dei media il master ha perseguito una strategia di polarizzazione delle energie creative all'interno del tessuto sociale invertendo la tendenza contemporanea alla privatizzazione non solo degli spazi pubblici ma anche di molti aspetti della vita sociale è inutile che vi ricordi che il tanto amato facebook è un aspetto abbastanza inquietante il fatto che ci sia un proprietario che è in grado di analizzare e gestire tutti questi flussi di dati a suo piacimento a tal fine come fondamentale integrazione dello stage formativo il master prevedeva la progettazione e realizzazione di alcuni progetti dei quali appunto ve ne presenterò diversi in collaborazione con una rete di partner istituzionali che operano nel campo della produzione culturale e della comunicazione ovviamente istituzioni con forti motivazioni etiche che svolgono un'analisi indipendente dei problemi sociopolitici e filosofici che caratterizzano la nostra contemporaneità con particolare attenzione ai problemi di accesso del digital divide della democratizzazione della comunicazione eccetera quattro aree principali di ricerca e di attività digital stage design e installazioni di atti mediali architettura della comunicazione exhibition design e interface interaction design un ultimo accenno a quelle che erano appunto le basi programmatiche questi tre colori rappresentano appunto le tre i interaction design interface design information design che contribuiscono appunto alla definizione di un ambiente interattivo e qua iniziamo a vedere alcuni aspetti delle forme di rappresentazione che sono nate all'interno del master in particolare queste sono delle parole chiave di argomenti sui quali ci siamo concentrati è interessante notare che sono tutti termini inglesi cioè tutto quello che riguarda le tecnologie ha sempre un'etichetta un tag inglese è molto difficile anzi stiamo storpiando il nostro vocabolario con delle traduzioni abominabili tipo anzi che scansione usiamo no dei dei termini non so mio figlio dice ah è buggato anzi che dire non funziona è corrotto no è buggato scannerizzano esami quel documento anzi che scansione va bene comunque c'è questo aspetto su cui mai abbastanza si riflette di un evidente colonialismo intellettuale ed economico che proviene dagli Stati Uniti però questo è un argomento molto complesso torniamo al nostro piccolo spazio di sperimentazione di creazione ecco queste sono delle parole che fanno riferimento al periodo 2007 2010 quindi non c'è per esempio l'internet of things ah si c'è c'è c'era quindi già parlavamo di queste cose un piccolo video si può fare di queste cose Ecco queste sono appunto delle forme dinamiche di rappresentazione del mondo tecnologico, del mondo dei dati. In questo caso è un codice tradotto in C++ con un'estetica molto minimale, bianco e nero, di quelle che sono le principali formule della fisica contemporanea. Quindi una forma di rappresentazione dinamica, grafica, un'interpretazione di formule matematiche che poi visualmente sono state tradotte in questo formato. Qui vediamo appunto Giada che è qua presente, che è stata una delle studentesse del Master, una ragazza pugliese, con la prima installazione realizzata nel Master. Che sostanzialmente era un tentativo appunto di confrontarci con questo nuovo mondo. Quindi una mappatura del mondo delle informazioni in quella che può essere appunto una forma che va oltre il linguaggio. Quindi le metafore del lavoro di ricerca sono spesso intraducibili con le parole, perché non necessariamente esistono delle parole che si è in grado di spiegare, non lo so, delle forme coreografiche, dei suoni. E così anche delle dinamiche di immagini. Abbiamo da scoprire dei nuovi territori, abbiamo scoperto tutta la terra fisica e addirittura attraverso Google Art possiamo navigarla a nostro piacimento senza spostarci dal nostro tavolo. Però sono nate delle nuove dimensioni, delle nuove realtà che si chiamano Facebook, che si chiamano Twitter, che si chiamano Skype, che sono appunto i famosi social network con i quali condividiamo una parte considerevole della nostra vita. Quindi su questo, con il primo lavoro del Master, ci siamo confrontati. Ci siamo confrontati anche con gli aspetti della conoscenza scientifica, quindi con la scoperta di questa macchina impressionante che è il nostro cervello, di quella che è l'attività cerebrale, di quelle che sono le dinamiche di rappresentazione, la complessità di questi miliardi di neuroni che si ricombinano e che ci abilitano a fare delle cose incredibili senza che ci sia da parte nostra un controllo diretto, per esempio per quello che riguarda tutta una serie di processi che sono controllati dal nostro cervello, dal battito del cuore, alla regolazione della temperatura, ai famosi processi omeostatici, il rinnovamento delle cellule, l'invecchiamento. Tutti questi processi sono controllati da questa macchina incredibile che da quando nasciamo non fa che elaborare, elaborare, elaborare informazioni. E alcune delle immagini che avete visto prima sono riferite all'Human Brain Project, che è il tentativo più grande della storia dell'uomo di mappare quella che è l'attività del nostro cervello. Se vi capita appunto vi consiglio di andarvi a vedere questo immenso database che la comunità scientifica sta condividendo. Queste macchine rappresentano la simulazione del cervello di un gatto. 144 terabyte di RAM che hanno consentito di realizzare appunto 10 miliardi di miliardi di sinapsi. e... scusa come? non è penso proprio di no penso proprio di no forse chi ci lavora non so il dolore della macchina ancora non è qualcosa di documentato di conosciuto però è una domanda interessante è interessante beh scusate vi dico dopo perché è partito un altro video molto importante di Ryoshi Ikeda che è un altro artista che riesce a rappresentare molto bene le dinamiche gli aspetti di cui stavamo parlando prima questa è una installazione molto grande realizzata allo ZKM di Karlsruhe grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A cui veniamo sottoposti visitando questo tipo di allestimento, ovviamente è irriproducibile con un mezzo come questo, è un po' come farvi vedere la fotocopia di un bel quadro importante dei secoli scorsi, quindi una piccola suggestione. Però vi assicuro che questo tipo di installazioni hanno degli aspetti sconvolgenti rispetto a quella che è la nostra fruizione convenzionale del mondo artistico. Si tratta appunto di nuove sensazioni, di nuove emozioni che solo l'unione del nostro pensiero e della macchina riescono a generare. Tra l'altro questo artista, Ryoshi Ikeda, è stato in residenza al CERN di Ginevra per diversi mesi e ha lavorato su una delle teorie più interessanti della fisica moderna, quella della supersimmetria. Anche qui la visione del nostro mondo attraverso la ricerca scientifica è profondamente cambiata. Quindi anche il confronto che un artista deve avere nel confrontarsi con la propria realtà deve potersi aprire a questo tipo di nuovi orizzonti. Quindi di nuovo ritorniamo al discorso dell'interdisciplinarietà, l'importanza di creare delle occasioni di incontro, creare delle strategie di convergenza fra quelli che sono dei mondi troppo spesso isolati e separati, nonostante ci siano degli enormi potenziali a livello tecnologico per stabilire delle strategie comuni. Qui torniamo appunto ai primi parassiti digitali che sono stati creati all'interno del master e questa è stata la prima installazione che abbiamo presentato sia fuori salone del mobile del 2007 che è uno tra i più importanti festival di arti digitali italiani che era il Toucheur, non so se esiste ancora, nell'occasione era preseduto da uno dei padri del cyberpunk, Bruce Sterling, che aveva apprezzato molto il nostro lavoro. E qui passiamo all'installazione del 2008, quindi l'anno successivo. Come dicevo prima, ogni anno i ragazzi, oltre che apprendere molto rapidamente una serie di tecniche a confrontarsi con tutta una serie di tecnologie, ogni anno i ragazzi elaboravano un proprio progetto. Cioè non erano i docenti a dirgli cosa dovevano fare, ma dopo un periodo di circa un mese di intensi brainstorming i ragazzi arrivavano, pervenivano a una visione dell'opera che volevano realizzare e il ruolo dei docenti era prevalentemente quello di coordinare e di favorire la realizzazione tecnica e artistica dei progetti proposti dai ragazzi, dagli studenti. In questo caso, hyperwish, hyperdesiderio. L'idea è nata dalla visione di stelle cadenti, di esprimere dei desideri guardando il cielo stellato e aprire il mondo della comunicazione al ricevimento del desiderio. Quindi chiunque può esprimere un desiderio, inviarlo in questo universo digitale e contribuire alla creazione di costellazioni di iperdesiderio. Un motore di analisi semantica contribuiva appunto alla creazione di queste costellazioni in maniera dinamica attraverso la raccolta e l'organizzazione dei vari desideri. Quindi veniva fatta un'analisi continuamente di tutti i nuovi desideri per pervenire alla creazione di iperdesideri, quindi desideri di desideri. Cioè analizzando tutte le espressioni si sono trovate delle frasi, non so, contro la guerra, sull'amore, che avevano un particolare significato per tutti, cioè che erano le parole più rappresentate. e la fruizione di quest'opera avveniva in uno spazio libero che ospitava i vari schermi di proiezione e una sfera dell'IKEA luminosa. Questa sfera era un po' il tracker, il navigatore, lo strumento per navigare nello spazio delle informazioni. Aveva incorporati anche dei pulsanti che consentivano di selezionare diverse organizzazioni della rappresentazione dei desideri. Però appunto la sfera luminosa consentiva di entrare in profondità in questi spazi tridimensionali che venivano generati in tempo reale. Fra l'altro questa, quell'installazione è stata poi presentata alla triennale della Bovisa, è stata alla biennale dei giovani artisti, è stata selezionata appunto per rappresentare il comune di Milano. Quindi diciamo anche dal punto di vista accademico, artistico, questo tipo di lavori hanno avuto una risonanza importante e hanno immediatamente proiettato i ragazzi a confrontarsi con il mondo della produzione culturale e quindi imparare sul campo ad allestire delle installazioni abbastanza complesse. Qui passiamo a delle sperimentazioni. nel 2008 con tecnologie multitouch. In questo caso si trattava di un lavoro abbastanza commerciale, lì vedete per esempio Giorgio Armani, perché anche questo serve per finanziare, per contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca. Qui invece torniamo in campo artistico. Qualcuno di voi si interessava al mapping? Qua siamo nel 2009, un festival di musica molto importante che si chiama Mito, Milano-Torino, che appunto avviene fra le due città all'inizio dell'autunno ogni anno. e in questo caso lavoravamo con delle prime otto diversi artisti musicisti e lavoravamo all'elaborazione di immagini generative, quindi immagini di sintesi che venivano generate a partire dall'analisi dello spettro sonoro. Quindi avevamo elaborato delle interfacce abbastanza sofisticate che ci consentivano di estrapolare delle informazioni oggettive sulla qualità del suono e influenzare delle tonalità di colore, delle dinamiche, delle scale, tutta una serie di parametri che caratterizzano appunto l'immagine video. Ovviamente un'immagine non mimetica, un'immagine artistica di flussi, di colore, come potete vedere. E le immagini erano accuratamente mappate su questa sorta di vela che era sospesa sull'ensemble che dal vivo suonava nell'hangar della Bicocca, uno spazio molto importante di Milano. Parlavamo di interface design. Perché pongo l'accento fra il binomio artist-designer? Perché indubbiamente se ci confrontiamo con le tecnologie bisogna saper progettare, bisogna saper far parlare le macchine fra di loro, bisogna sapere il linguaggio delle macchine. Questo non necessariamente lo deve fare una persona, ci sarà magari quello che sa parlare meglio con le macchine, quello che conosce meglio la grafica, quello che conosce meglio l'analisi del suono. Torniamo al discorso fondamentale dell'interdisciplinarietà, del lavoro in gruppo, che è sempre un processo olistico, non è una somma di individualità, ma è l'origine di nuove forme di produzione artistica. Qui vedete semplicemente individuati da colori, diverse tecnologie, diversi protocolli, che sarebbero appunto i linguaggi che servono a far viaggiare le informazioni all'interno di questi spazi. Tutto questo, che è appunto il discorso di progettazione dell'interfaccia, è per il pubblico totalmente invisibile, ma deve essere estremamente chiaro e ben progettato, altrimenti l'installazione diventa un incubo, diventa un disastro, non funziona. Qui vediamo altri lavori del 2009 per i quali, al contrario degli anni precedenti, era stato assegnato un tema. Cioè i ragazzi si dovevano confrontare sul tema che era quello dell'ecosostenibilità digitale. e quindi tornare di nuovo all'interpretazione di dati sull'ambiente che vengono tradotti in forme grafiche, per le quali ogni gruppo di studenti sviluppava delle proprie interfacce. In questo caso potete notare l'estremo minimalismo dell'interfaccia che appunto controllava la generazione di suoni e immagini dell'installazione di cui avete visto la figura in precedenza. In questo caso si tratta di relitti della tecnologia informatica, sono degli hard disk rotti che come gli strumenti di un VJ consentivano di selezionare molto velocemente dei flussi di informazione e rappresentarli sia a livello acustico che visivo operando appunto su questi dischi quindi proprio c'era un touch, veramente touch cioè c'era proprio un contatto con l'interfaccia e ce n'erano due di questi hard disk quindi si lavorava proprio con la stessa sensibilità dei DJ Quei grandi pulsanti, appunto tecnologie industriali da pochi euro erano dei selezionatori di diversi database e il tutto riguardava la carbon footprint e l'analisi dei dati relativi all'emissione appunto di carbonio di ossido di carbonio da parte di tutte le nazioni e il fatto che rispettassero o meno quelli che erano i dettami a quei tempi del G20 di Kyoto Un'installazione realizzata con un centinaio di euro di hardware, di pezzi appunto Questo è un altro lavoro sull'elettrosmog Anche qui dei pick up vecchi di chitarre elettriche consentivano di amplificare le radiazioni emesse da qualsiasi strumento cellulare, iPad che avete in tasca avvicinandoli a quei pick up si producevano dei suoni e si influenzava la generazione di quelle spirali per cui le frequenze d'onda adesso qui vedete 4 potevano essere 8 ma 16 in base appunto al noise al disturbo che veniva prodotto e anche il cambiamento del colore che veniva proiettato da dei moduli RGB controllati da un Arduino era in funzione di rosso ovviamente pericolo, azzurro ok, insomma meno nocive eccetera riguarda diciamo quello che è il peso delle frequenze elettromagnetiche perché quelle spirali sono prodotte semplicemente da un filamento è un filamento che va in vibrazione che ruota e produce appunto queste forme geometriche anche qui parliamo di poche decine di euro per realizzare questi lavori questo è un lavoro sul tempo un tunnel quindi si attraversa un tunnel scuro nel quale sul lato destro c'è la rappresentazione dei vari tempi soggettivi ogni persona che entra ha una sua matrice di tempo che parte ecco l'istante in cui sei nato ok la tua cellula parte e viene contato questo tempo dall'altra parte in tempo reale invece c'è l'elaborazione della propria ombra che viene trattata in una maniera invece più artistica quindi da un'altra parte c'è un'estrema freddezza dell'unione della linea numerica e dall'altra parte c'è un'informazione più calda e forse meno sessile però appunto avevamo creato questa collisione per cui contemporaneamente ci si trovava dentro un schizofrenco perché era quasi impossibile riuscire a percepire entrambe le dinamiche e allora probabilmente qualcuno iniziava a forse dalle domande possiamo riprendere il video? Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 un capitano. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.